Dopo la Sicilia, per Little Service Pesaro è tempo di volare in Sardegna. Dopo il 3-3 sul parchè della Meta Catania, arrivato venerdì scorso, i Biancorossi andranno a far visita al Monastir, sabato 3 dicembre alle 15.15. Ai ragazzi di Mister Colini è richiesta una prova d'orgoglio, visto il solo punto ottenuto nelle ultime due sfide, e una classifica che per la prima volta negli ultimi tre anni li vede in ritardo di 15 lunghezze dalla prima. Little Service di fronte avrà un Monastir, reduce da una vittoria scacciacrisi arrivata dopo quattro sconfitte consecutive, trovandosi attualmente a 12 punti e a più tre dai Biancorossi. All'appuntamento di sabato non ci sarà De Oliveira, espulso in Sicilia, ma Mister Colini potrà contare sull'ultimo acquisto ufficializzato mercoledì. Davide Putano, l'estremo difensore che si è aggregato alla squadra nelle ultime ore, indosserà i colori Biancorossi per la prima volta. Quella di sabato è l'ultima sfida in programma che separa Little Service dalla finalissima di Supercoppa contro l'Olympus Roma, che verrà disputata sabato 10 dicembre al Palac Cesaroni di Genzano con start fissato alle ore 21 in diretta su Sky Sport. Se Little Service Pesaro Calcio a 5 fatica a trovare una sua identità, Little Service Loreto Basket si è immersa in un percorso fatto solo di vittorie. Sul parquet di Ascoli è arrivato l'ottavo successo consecutivo con il punteggio sulla sirena finale che segnava 83 a 42 a favore degli ospiti. L'appetito viene mangiando e i ragazzi di Coach Foglietti non ne vogliono sapere di interrompere il perfetto ruolino di marcia intrapreso e per farlo bisognerà superare il San Marino nel prossimo impegno in programma, sabato 3 dicembre al Palaflamine alle 21.15.